Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali Presono Studio One ed Acustica Audio sugli altri software e sulle tecniche di audio mix e mastering sono disponibili sul sito www.proadiolearning.com. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifiche dei nuovi video caricati. Con questa nuovissima serie di video ripercorreremo alcuni argomenti trattati in precedenza non soltanto approfondendoli ma anche per darvi un'anteprima esclusiva sui nuovi corsi professionali che sto preparando. Le novità sono tantissime per cui rimanete sintonizzati, se siete appena giunti sul mio canale lasciate un like, attivate la campanella ed aiutatemi a diffondere il video sui vostri social. Il canale contiene ormai centinaia di video gratuiti che spesso l'algoritmo di YouTube non mette in evidenza ma vi invito a scavare perché spesso le domande che mi arrivano sono già state trattate in passato. Apriamo questo nuovo percorso ripercorrendo gli argomenti più hot e iniziamo con il gain stage. Uno dei primissimi video che feci su questo canale trattava il gain stage e visto che l'argomento è sempre caldo sia nei gruppi Facebook sia qui su YouTube ho deciso di rifarlo arricchendolo di nozioni e concetti fondamentali per la comprensione di questo argomento. Molte sono infatti le domande che spesso fanno riferimento a quanto devo settare il volume del pre, qual è il volume giusto per ogni traccia sul mixer, qual è il volume a cui devo esportare il mix eccetera eccetera. Il concetto di gain staging è cambiato tantissimo negli ultimi 30 anni grazie proprio all'arrivo delle apparecchiature digitali per la registrazione come vedremo. Non esiste quindi un vero sistema universale di gain staging proprio perché va sempre riferito al sistema di registrazione e dal periodo ovviamente storico. Scopriamo insieme quali sono gli errori più comuni e come passare da un livello amatoriale ad uno più professionale. Errore numero uno. Cosa è il gain staging? Perché spesso non si sa cosa sia veramente. Il gain stage quindi è sempre stato uno degli argomenti più discussi in assoluto ma spesso molto spesso se ne parla senza conoscerlo veramente. Comprendere cosa sia e come utilizzarlo è alla base del lavoro di mix e di mastering, dell'interfacciamento con gli outboard esterni, del segnale da inviare alle casse monitor eccetera eccetera. Non è solo quindi un riferimento sul metering della nostra Do. Utilizzare il gain stage in maniera corretta ottimizza e migliora moltissimo il risultato finale e l'utilizzo del sistema che stiamo impiegando in questo momento. Innanzitutto che cos'è il gain? Non è il volume. Non è che alzando lo stadio di gain di un mixer si alza il volume perché il gain rappresenta l'aumento di segnale prodotto da un amplificatore espresso in rapporto tra input e output. Questo che vuol dire? Il gain staging è quindi l'ottimizzazione di un livello di segnale audio attraverso una catena audio. Se questo livello non viene ottimizzato il segnale subirà un degrado e a volte utile a volte assolutamente da evitare. Durante gli anni quindi anche durante le varie evoluzioni dell'audio recording il concetto di gain staging è cambiato in base al risultato che questo comporta. Come abbiamo visto diverse volte introdurre distorsione potrebbe anche essere un fattore ricercato in alcuni casi. Sin dagli anni 50 oltrepassare i limiti dei circuiti ha portato alla creazione anche di timbri e caratteristiche sonore che hanno reso famosi alcuni chitarristi fino al design di circuiti di distorsione apposi proprio per avere quel genere di risultati. Ma sostanzialmente gli obiettivi del gain stage sono due ossia minimizzare il rumore di fondo e la distorsione e massimizzare invece l'headroom e quindi il rapporto dinamico del materiale audio. Per poter capire questo dovremmo dividere il concetto di gain stage in due fasi recording e mixing. Errore numero 2 Gain in recording. Stay green come dicono gli inglesi. Non registrare il suono distorto in clipping digitale. Diamo quindi un'occhiata al funzionamento del gain per poter arrivare a questi risultati. Come abbiamo più volte visto su questo canale l'uso del gain limita il clipping, la distorsione e l'headroom. Quando il segnale supera i limiti del circuito analogico o emulato il segnale entra in distorsione. A volte come dicevamo gradevole a volte da evitare proprio perché ogni tipo di distorsione ha un suo scopo ben specifico. Nel mondo analogico la distorsione ha molte meno conseguenze rispetto a quella prodotta da un sistema audio digitale. Guardiamo la DO e noteremo che andando in play nessuna traccia va in clip ma il master si. Questo che cosa vuol dire? E' bene quindi cercare di abbassare tutte le tracce affinché vi sia uno spazio sul master prima del clipping digitale, quello spazio che viene denominato appunto headroom. Possiamo compensare abbassando il master father, certo, ma quello è un altro discorso e lo vedremo dopo. Cerchiamo di capire come evitare la distorsione del nostro segnale audio entrando nel merito dei concetti segnale rumore e rapporto dinamico. Il rapporto segnale rumore lo troviamo spesso scritto nei manuali con la sigla appunto SN Ratio o Signal Noise Ratio ed è il rapporto tra la forza di un segnale e la forza dell'interferenza o rumore di fondo prodotto dalle apparecchiature analogiche in registrazione. Per chi ha già registrato con un microfono avrà fatto caso al fruscio che si percepisce quando si registra o si cerca di registrare con una voce soffusa o a basso volume. Il rumore di fondo per intenderci è quello che spesso viene generato dal circuito del microfono se è di scarsa qualità o del preamplificatore. Questo può accadere anche in alcuni microfoni vintage che non sono stati ancora revisionati ad esempio. Se registrassimo con un'apparecchiatura a nastro oltre al rumore intercettato dal microfono avremo quello prodotto dal nastro stesso, dallo sfregamento del nastro sulla testina in fase di riproduzione. In questo caso quando la voce sarà alta di volume il rumore in riproduzione viene surclassato e diventa inavvertibile e non influente. Mentre quando la voce sussurra si avvicina alla soglia di rumore facendolo percepire più chiaramente insieme alla voce. Dopo aver registrato dovremo amplificare il segnale per ascoltarlo e in quel momento anche il rumore di fondo viene amplificato insieme al segnale registrato facendolo diventare importante quanto la voce è difficile da rimuovere o cancellare. Esistono diversi software di correzione del rumore adesso li abbiamo visti già in azione su questo canale ma non è una pratica comune né consigliata per correggere gli errori di registrazione quando possono essere corretti ed evitati a priori. Rimanendo sempre nel campo analogico ogni apparecchiatura in cui passiamo il nostro segnale aggiunge rumore. Ogni circuito genera rumore il microfono il cavo il preamplificatore la scheda audio eccetera eccetera prima di arrivare al nostro computer ed essere registrato dalla nostra dock. Tutto questo rumore viene sommato fino a diventare estremamente fastidioso nella fase di riproduzione. Questa infatti è una enorme differenza tra le apparecchiature analogiche e quelle digitali e del perché alcune apparecchiature analogiche siano iper costose rispetto ad altre. Qualcuno mi ha posto la domanda ma tanto la voce anche se ha un po' di rumore dentro poi viene inserita in una base e si percepisce di meno. Questo è vero se si registra un solo strumento e poi si inserisce all'interno di una base magari creata con strumenti virtuali e loops. Ma quando dovremo aggiungere voci doppie, cori, strumenti acustici come appunto una chitarra o altro tutti i rumori di fondo presenti in ogni traccia si sommeranno tra loro diventando estremamente importanti all'interno del brano. Non pensiamo quindi alla sola singola traccia registrata ma anche alla somma di tutte quelle tracce registrate che poi ci ritroveremo in fase di mix. Il livello di registrazione. Cercare il livello adatto è quindi il primo step da affrontare trovare un compromesso accettabile tra rumore di fondo e segnale registrato. Alzando il gain in ingresso dovremo fare attenzione a non andare in distorsione mentre registriamo ad esempio una voce o un basso o un violino. Eventualmente riservarci di distorcerli successivamente con un effetto ed evitare di registrarlo troppo basso vicino quindi alla soglia del rumore. Nel mondo analogico si è sempre cercato di registrare abbastanza alto proprio perché il rumore di fondo era superiore rispetto ad un'apparecchiatura digitale o ad una nuova delle recenti apparecchiature analogiche. In un sistema di registrazione digitale si tende invece a rimanere più bassi proprio perché il segnale di fondo che si incontra in questo caso è molto molto più basso. A volte nel caso di apparecchiature digitali professionali al di sotto della soglia udibile. Questa è l'enorme differenza tra registrare in dominio analogico e registrare nel dominio digitale. Non è più necessario quindi dover registrare ad un volume alto come lo era invece in passato. In questo caso eviteremo di andare in distorsione digitale perché un clipping non è gradevole né tantomeno riparabile. una catena di registrazione perfetta è quella in cui il rumore di fondo è sotto il controllo massimo sia da parte del microfono che del resto della catena come ad esempio il preamplificatore ed i cavi che poi arrivano alla scheda audio. Vi mostro la mia catena ed il livello di registrazione del mio microfono. In questo caso il Ribera 251 collegato al NIV 1073 collegato poi al convertitore ferrofisch che a sua volta è collegato alla scheda RME UFX Plus attraverso la connessione MADI. Come possiamo notare la mia catena analogica produce un rumore di fondo non percepibile e questo mi garantisce una registrazione anche a un volume più basso rispetto a un microfono semiprofessionale collegato direttamente alla scheda audio magari entry level. Come vediamo il microfono riesce a registrare tutta la dinamica anche il bassissimo il pianissimo e il fortissimo e questa è l'area dove noi vediamo il rumore di fondo. Questo è il rumore di fondo prodotto da un microfono valvolare professionale. Come vediamo è quasi inesistente sembra assolutamente ininfluente e questo appunto un segnale analogico molto complesso come dicevo quindi microfono cavo preamplificatore e poi direttamente nella scheda audio. Questo sistema garantisce una registrazione dinamica ottimale ossia possa avere una ripresa di suoni dinamicamente forti e piano senza dover incontrare problemi e quando andrò ad applicare un compressore alla catena della voce non avrò quindi un aumento del rumore di fondo come invece ci si aspetta da una ripresa meno professionale. Moltiplichiamo questo fattore per 10 o 20 tracce di voci ad esempio un coro ed avremo un chiaro esempio di come sia importante avere sotto controllo il rapporto segnale rumore in analogico. Oltre il rapporto segnale rumore è fondamentale nel caso di utilizzo di microfoni avere un controllo adeguato dell'impedenza del preamplificatore in relazione al microfono. Ho fatto un video apposito dove è molto dettagliato sull'uso delle varie impedenze sui vari microfoni. Vi consiglio di vederlo per capire meglio il concetto di accoppiamento tra microfono e preamplificatore. Lo trovate in descrizione sotto nel video. Proprio perché vi sono dei riferimenti al mondo analogico e a quello digitale dovrò riferirmi a due tipi di meter. Abbiamo già visto questo argomento nella lezione nel video su la pan low. Nel nostro caso utilizzeremo il riferimento VU e full scale. Il view meter che troviamo sulla DO va sempre settato in base ai bit che vanno a rappresentare il campionamento del segnale analogico. Ossio bisogna impostare il view meter su una scala di riferimento sempre in base ai bit di registrazione e il vero rapporto appunto VUFS. Questo è un errore che ho visto nel 90 per cento dei video su YouTube. Il suono a zero di BVU va regolato a meno 18 di BFS perché il nostro convertitore la maggior parte dei convertitori ormai a 24 bit. Al giorno d'oggi infatti tutte le schede audio sono 24 bit per cui prendiamo come riferimento meno 18 di BFS. Lo stesso va impostato nei view meter del software della scheda audio ad esempio se possediamo per esempio un view meter nel controllo della scheda audio. Ogni volta che utilizziamo un meter di qualsiasi tipo facciamo attenzione al setting iniziale o tutto il nostro lavoro verrà vanificato. Lo stesso quando si parla di pan low come abbiamo visto in base alla pan low impostata anche il view meter e il peak meter cambieranno il loro valore. Riguardo sempre la pan low vi metto in descrizione il video dove ho parlato approfonditamente di questo argomento. Facciamo un esempio di questo concetto prima con un generatore di segnale con una sinusoide in una song e vediamo che cosa accade. Creiamo una nuova song facciamo ok inseriamo un generatore di suono facciamo una traccia audio e inseriamo al suo interno il nostro signal generator il nostro generatore quindi nel caso di studio one avremo il ton generator molto comodo per i nostri test abbassiamo il volume del master e accendiamolo a un kilohertz che è la frequenza di riferimento di tutte le tarature analogiche. Come abbiamo visto sul video della pan low apriamo qui un view meter settiamolo a meno 18 dbfs e il nostro segnale ovviamente digitale lo mettiamo a meno 18 cosicché il vediamo il view meter corrisponda allo zero view eccolo qui questa è la reale configurazione facciamo sempre attenzione ovviamente che il segnale che emette il nostro ton generator sia monofonico e poi copiamo il nostro view meter anche sul master per vedere appunto l'effetto della pan low e vediamo che siamo scesi di meno 3 db perché la pan low di studio one è di default impostata a meno 3 db anche se ovviamente utilizziamo altri plugin di questo tipo come ad esempio il view meter di psp audio che io adoro dobbiamo comunque avere sempre un rapporto relativo ai dbfs in questo caso in questo caso qui è riportato in alto proprio nel plugin dove c'è scritto appunto al reference level meno 18 dbfs possiamo ovviamente cambiarlo all'interno e ritarare il nostro ago come meglio crediamo ma comunque di default viene portato a meno 18 dbfs perché siamo a 24 bit e non va quindi tarato immediatamente il view meter di psp e inoltre molto più avanzato ci permette infatti di accedere a diversi filtri quindi possiamo anche aggiungere un filtro un high pass filter e un low pass filter e ovviamente aggiungere il nome passare in modalità ms ed avere appunto un view meter relativo al mid ed uno relativo al side o la possibilità di cambiare le scale di valori in rms o in ppm come vediamo è molto versatile super consigliato come plugin di view metering questo per dire di non sottovalutare mai la pallo visto che alcuni video dicono che è inutile guardare al view meter sul master perché la loro traccia va in clip mentre il view meter no ovviamente il view meter sul master ha un default di meno 3 db come vediamo rispetto alla traccia singola mono per effetto sempre appunto della pallo che abbiamo impostato nei sistemi digitali anche nella nostra do si usa un sistema di misura completamente diverso come abbiamo visto e che chiamiamo appunto full scale o fs ed è quello che noi vediamo qui nel metering del dei canali o del master in questo caso possiamo analizzarlo attraverso il level meter di studio one che ci mostra appunto un valore in full scale in questo sistema come abbiamo spesso detto il segnale non deve mai superare lo 0 db fs soprattutto in fase di recording superato infatti il limite dello 0 db fs il segnale non verrà più quantizzato nella maniera corretta del sistema e inizieremo a sentire il suono di clipping digitale per i più curiosi ho fatto un video proprio sul clipping digitale su l'utilizzo del clipping lo trovate sempre qui sotto in descrizione le opinioni riguardo al livello di registrazione sono diverse qualcuno dice meno 12 db fs come picco ed altri invece come rms quindi si rimane comunque in una comfort zone se rimaniamo appunto nella fase diciamo verde del view meter quindi non andiamo mai nella fase più avanzata del nostro segnale nel caso ci trovassimo su studio one possiamo utilizzare il level meter tarato su k20 e quindi avere un disegno anche appunto green più semplice da riconoscere evitando quindi di far andare il segnale appunto in una parte più gialla o peggio ancora nella parte rossa in questo modo garantiamo ancora molto headroom per le fasi di mastering successive c'è chi consiglia di arrivare ad un picco massimo di meno 6 db potrebbe essere utile qualora non utilizzassimo microfoni professionali e dobbiamo minimizzare appunto come vi dicevo il rapporto segnale rumore dei mic o delle schede audio più economiche aprendo il level meter ed impostandolo su k20 appunto notiamo subito che siamo sul green pieno e quindi nella comfort zone per eccellenza come controllare il gain vediamo insieme come controllare ogni passo del segnale per arrivare ad una ottimizzazione del segnale in tutta la catena dopo aver controllato l'esatta impedenza di ingresso compatibile con il microfono in uso iniziamo con la prossima sezione del segnale ossia il preamplificatore del nostro microfono ogni preamplificatore ha una sezione di gain in ingresso che aumenta la quantità di segnale cercando di rimanere con dei picchi massimi a meno 12 db fs e abbiamo visto nel view meter e quindi ci troviamo in una situazione ottimale di registrazione non confondiamo i bit utilizzati in fase di registrazione con quelli utilizzati dalla do in fase di calcolo è un errore comune ma sono due applicazioni completamente diverse in fase di recording ogni bit registra 6 db di dinamica le schede audio che registrano 32 bit integer non sono né comuni da reperire né alla portata di tutti quanti oltre questo sarà difficile trovarci di fronte a fonti sonore superiori i 125 db che sono più che sufficienti per registrare a 24 bit in natura soltanto il gambero pistola riesce a superare tale soglia e non è neanche facile da incontrare in ambiente meccanico sono poche le sorgenti sonore che superano questa soglia come ad esempio un motore di un aereo l'esplosione di una bomba eccetera eccetera state quindi tranquilli che 24 bit di risoluzione in fase di recording sono più che sufficienti al nostro scopo con 24 bit possiamo arrivare infatti a 144 db di dinamica sono i 6 db per i 24 bit i microfoni inoltre in grado di registrare suoni oltre i 120 db sono molto pochi mentre gli altri superata la soglia iniziano a distorcere e smettere di funzionare quindi anche avendo una scheda audio a 32 bit non sarebbe utile in nessun caso evitiamo quindi di registrare tracce a 32 bit floating perché comunque la nostra scheda audio né il nostro microfono sono in grado di occupare uno spazio dinamico così capiente la risoluzione in bit interna della nostra do invece permette un utilizzo di dinamiche estreme post recording ma questo discorso lo analizzeremo nella fase di mix non mandiamo in clip i canali singoli pensando la do abbiamo a disposizione diversi sistemi di controllo del gain sia sul clip audio sia sul canale audio pre e post father vediamoli insieme abbiamo modo infatti in studio one di possedere una gestione del gain direttamente qui in alto nel in ogni canale grazie all'opzione input controls che possiamo appunto accendere e quindi ci dà modo di controllare il gain in ingresso nel canale l'altra soluzione potrebbe essere quella di modificare il gain attraverso il bracket che troviamo qui e che ci permette appunto di alzare o abbassare il gain di una traccia intera oppure possiamo tagliare la clip e modificarla in alternativa ancora possiamo lavorare con un sistema di clip gain interno alla traccia grazie alla funzione gain envelope che ha studio one e che ci permette di lavorare appunto il gain sui singoli elementi all'interno della traccia l'importante è non utilizzare il fader del canale perché poi lo vedremo nella sua applicazione reale lo stesso accade utilizzando un equalizzatore incrementando le frequenze alte o basse aumenta di conseguenza il gain della traccia su cui stiamo lavorando dovremo poi ad esempio recuperare il segnale che stiamo lavorando abbiamo ad esempio un EQ e dovremo in ogni caso se alziamo se boostiamo una frequenza appunto di magari 5 db dovremo poi recuperarli nel gain out del nostro equalizzatore e quindi avere sempre un controllo di gain stage interno al plugin per evitare proprio di sforare poi negli altri plugin con segnali estremamente alti alcuni plugin hanno già all'interno un sistema di auto compensazione come ad esempio newfangled audio di eventide vediamolo prendiamo ad esempio elevate che abbiamo già visto in un altro tutorial all'interno sempre del canale e dove appunto abbiamo un auto output in questo caso viene compensato automaticamente man mano che viene fatta la correzione all'interno del plugin lo stesso accade utilizzando i processori dinamici o plugin di compressione anche in quel caso la manopola del make up gain prendiamo ad esempio appunto un plugin il fat channel di studio one abbiamo sempre a disposizione nella sezione del comp un gain di recupero per cui tutta la parte che viene compressa verrà poi recuperata col gain in uscita anche in questo caso il make up gain ci permette di compensare la perdita del segnale che abbiamo ottenuto grazie alla compressione sul segnale stesso la cosa migliore è iniziare con il fader a unity gain quindi i fader a 0 vedete lo 0 indicato qui all'interno del canale questo viene chiamato appunto unity gain controlliamo la stessa cosa anche sul mixer ovviamente della nostra scheda audio perché anche la pan low entra in questa equazione di somma ma l'abbiamo già analizzata nel video riguardante proprio la pan low uno dei fattori che danneggiano di più un mix è l'errato settaggio del gain staging nella do la maggior parte degli errori di mix sbagliati deriva proprio dalla scarsa conoscenza di questo sistema e dal suo utilizzo vediamo insieme come farlo meglio che cos'è lo unity gain rimanendo sempre con i fader a unity gain ossia a 0 regoliamo l'uscita di ogni traccia utilizzando invece il clip gain che abbiamo visto prima quindi sia nella traccia sia qui nell'ingresso del canale in questo modo possiamo applicare il gain stage prima di ogni operazione all'interno del mix cerchiamo quindi di far sì che ogni canale rimanga intorno ai meno 12 di bfs di picco e in questo modo molto probabilmente arriveremo a un master senza clip digitali prendersi un po di tempo per settare il mix in questo caso vi assicuro che porterà ad un risultato più che ottimale del mix finale ed avremo molto spazio per far lavorare i plugin che useremo proprio all'interno del mix ovviamente più traccia inseriamo più sale la somma totale regoliamoci di conseguenza l'ossessione del gain stage non esageriamo pretendendo che tutto rimanga a meno 18 di bfs a volte come abbiamo visto è utile superare il limite dei circuiti e delle emulazioni di tali circuiti creando timbri e colori diversi in fase di mix avere i bass che clippano perché magari ci sembra che il suono sia migliore oppure pensiamo di raggiungere il limite dei lufs come si fa in fase di mastering in uno studio professionale anche se ci piace come arriva la somma delle tracce in un bass applichiamo un plugin di gain per contenere il segnale in arrivo nel bass siamo in dominio digitale possiamo abbassare il gain in ingresso nel bass senza perdere nulla ma evitiamo di far clippare la do come dicevo ho parlato di clipping e clippers in fase di mix in un altro video nel caso di studio van anche i bass hanno un controllo di gain qua in alto e selezionandoli tutti contemporaneamente posso abbassare il gain in ingresso nel bass e dare ancora spazio al bass per poter appunto aggiungere plugin facciamo sempre un match del volume dopo aver utilizzato un plugin in questo modo il nostro mix rimarrà sempre bilanciato il pulsante di bypass che troviamo anche qui in alto in studio van e che spegne automaticamente tutti i plugin di studio van ci permette di fare un confronto tra il mix e le tracce originali e ovviamente anche il bypass all'interno del plugin ci permette di ascoltare che cosa sta facendo il plugin rispetto al suono originale anche perché se usciamo dal plugin con un volume più alto ci sembrerà sempre più bello usare i plugin esterni di controllo automatico del gain questo può essere utile in fase live quando il controllo di gain automatico deve essere applicato per evitare degli overclip improvvisi ma in fase di mix influenza costantemente il segnale in ingresso nel plugin di compressione ad esempio pregiudicando l'uso dello stesso compressore del suo settaggio a meno che non sia una caratteristica ricercata a priori come effetto la nostra do mette a disposizione già i plugin adatti al controllo di gain e di view metering studio one in questo ha diversi controlli di gain come abbiamo visto sia sotto forma di plugin sia sotto forma di clip gain mix gain sul mixer tenere i father bassi è un errore perché ricordiamoci che siamo su una scala logaritmica e non lineare quando il father è basso quindi si trova in questa zona i cambiamenti di programmazione sono molto lievi e sarà difficile da controllare nella fase di mix per questo consiglio di rimanere in modalità unity in modo da controllare l'escursione del father in maniera più semplice e controllata rimanendo su variazioni di facile udibilità il controllo di volume da meno 30 a meno 21 non è lo stesso rapporto di controllo del volume da meno 21 a meno 12 non usate i preset i preset dei plugin non funzionano bene quasi mai perché non è detto che il materiale sonoro con cui sono stati creati sia lo stesso che usiamo noi ma soprattutto non è detto che il materiale sonoro che stiamo cercando di manipolare con un preset abbia l'esatto gain stage a cui è stato creato il preset e questo è un errore comune che cerco sempre di evidenziare quando una software house come psp o acustica audio pubblicano i miei preset come vedete i miei preset contengono sempre un riferimento in dbfs prendiamo ad esempio il nuovissimo psp saturator a cui sono molto affezionato e se andiamo nella sezione designer e scegliamo il mio nome troviamo il riferimento in rms a cui il plugin dovrebbe lavorare quindi l'ho fatto includere nel preset lo stesso è riscontrabile ad esempio anche sui plugin di ozone se noi prendiamo ozone andiamo ad esempio nei preset di greg kalbi e troviamo sotto nella descrizione del preset il livello a cui dovremmo entrare in questo preset quindi qui consiglia un ingresso tra meno 20 e meno 12 rms ed un picco di meno 6 meno 3 per poter utilizzare al meglio questo preset queste sono delle indicazioni molto importanti proprio perché è difficile creare un preset adatto a tutto e che funzioni completamente con tutto alcuni plugin invece ad esempio compensano in ingresso il volume di lavoro alcuni infatti hanno uno stato di lavoro predefinito e spesso indicato nei manuali del plugin oppure compensano automaticamente il segnale in ingresso portandolo magari a meno 18 di bfs prima di entrare nel plugin ed iniziare a lavorare in questo modo sarà lo stadio di preamplificazione interno al plugin a gestire l'eventuale distorsione da aggiungere in ingresso prima del resto dell'algoritmo una delle domande più frequenti che ho ricevuto in questo frangente è relativa al volume di uscita che spesso è troppo basso rispetto a quello a cui vorreste ascoltare il brano l'errore maggiore è quello di alzare il fader del master che troviamo qui sulla do quello che invece bisogna assolutamente fare è alzare il volume di uscita nei monitor se la nostra scheda audio o i nostri monitor non sono sufficientemente in grado di gestire questo vanno sostituiti e va usato un amplificatore in catena anche se è meglio sostituire direttamente la scheda audio o i monitor lo stesso dicasi dell'uscita della cuffia della scheda audio che se non è sufficientemente potente può essere aiutata da un secondo preamplificatore anche se è meglio usare un preamplificatore cuffia connesso alle uscite separate della scheda audio se ne avessimo ad esempio quattro o più nel caso delle cuffie facciamo sempre attenzione alla gestione dell'impedenza tra cuffia e pre rimanendo nel dominio digitale possiamo certo stare con il master in clipping ed abbassare il master fader ma non è sempre come sembra perché se abbiamo dei plugin post fader questo comprometterà il segnale che entra in quei plugin sto pensando a plugin di correzione come ad esempio sonarworks o sienna alcuni dicono di non preoccuparsi se i plugin clippano perché essendo nel dominio digitale dove la do può supportare un processing a 32 bit o a 64 bit non è necessario pensare di ridurre il gain ma se ogni canale clippa non abbiamo più informazioni visive reali su cosa stia accadendo tra il rapporto picco ed rms se questi canali entrano in un bus a cui vanno applicati degli altri plugin avremo un ingresso già troppo alto per far gestire a plugin e quindi dovremo comunque riabbassarlo per usare i plugin nel bus master magari aggiungendo un altro gain control ma non ha molto senso la coerenza di fase una domanda curiosa che mi è arrivata è stata allora è sufficiente che ogni traccia aggiunta abbassi il volume di 3db e sono a posto perché come sappiamo appunto ogni straccia che poi viene aggiunta e che non sia in coerenza di fase più o meno genera una somma di 3db se siamo in coerenza di fase come abbiamo visto invece la somma è di più 6db ovviamente sommare tracce con materiale audio differente non equivale necessariamente ad un aumento di 3db per ogni canale sommato questo perché non tutte le tracce avranno la stessa dinamica sempre nella stessa fase sempre facciamo un esempio con un nostro generatore di segnale se duplichiamo il nostro generatore di segnale quindi duplichiamo la nostra traccia come vediamo non abbiamo ottenuto un aumento significativo quindi sono due tracce che stanno suonando a meno 18 ma non creano quello che noi ci aspetteremmo cioè quindi è un aumento di più 3 o più 6db questo perché i due generatori di sinusoide non sono in coerenza di fase non hanno la stessa polarità identica discorso diverso se noi stampassimo uno dei nostri generatori e lo usassimo come traccia audio facciamo un esempio registriamo la nostra sinusoide quindi praticamente come ingresso della traccia 2 utilizzeremo la traccia 1 dopo di che la duplicheremo e vedremo l'effetto che otteniamo adesso duplicando la traccia 1 quindi togliamo il record duplichiamo la spegniamo il generatore accendiamo il level meter e andiamo in play come vediamo adesso sono esattamente in coerenza di fase quindi due polarità identiche il nostro segnale viene sommato e da meno 21 passa a meno 15 quando le due tracce invece anche se sono generate da due sinusoidi se non sono perfettamente in fase quindi perfette la nostra sinusoide in base da dove inizierà a sovrapporsi all'altra ci darà sempre come vediamo un risultato diverso in base a come si sovrappone in questo caso sono riuscito a mandarla casualmente in coerenza di fase quindi segna meno 15 però ogni volta che noi la accendiamo il valore sarà sempre differente teoricamente se un segnale viene emesso da due diffusori contemporaneamente quindi duplicato fisicamente si dovrebbe raggiungere un aumento di più 3db riferendoci sempre alla potenza più alto rispetto a quando viene emesso da un solo speaker abbiamo visto approfonditamente questo argomento nel video sulla pallo ma questo accade soltanto quando viene il segnale viene replicato ed è coerente ossia assolutamente identico nella fase all'interno della 2 invece se i due segnali risultano coerenti come abbiamo visto abbiamo una somma di più 6db se i segnali invece non sono coerenti quindi identici il segnale verrà sfasato magari di un piccolo ritardo e avremo un aumento di più o meno 3db in base all'altezza e quindi in base alla lunghezza d'onda questo perché soltanto alcune frequenze si si sommeranno contemporaneamente adesso proviamo ad utilizzare il rumore rosa quindi il nostro generatore lo metteremo su pink noise e faremo sommare i due rumore rosa come vediamo è molto diversa la somma ed è variabile alle due variazioni del rumore rosa che in alcuni momenti si sovrappoccono e si cancellano come se stessimo ascoltando due tracce all'interno di una song proprio perché non si troveranno mai in nessun momento in coerenza di fase questo è un altro fattore quasi mai nominato nei tutorial e che si vedono qui su internet usare l'outboard esterno nel mix parlando di sistema digitale come il nostro computer do scheda audio il concetto di headroom è molto diverso come abbiamo visto dallo stesso concetto nel mondo analogico nel mondo analogico il sistema viene calibrato a 0 v u che nel mondo digitale abbiamo detto più o meno stabilito a meno 18 di bfs a 24 bit nel caso utilizzassimo dei convertitori esterni per entrare nell'outboard o in un mixer analogico calibreremo il segnale notoriamente a meno 21 di bfs questo per compensare meglio l'outboard che lavora più 4 di bu la conversione di bu e di bfs l'abbiamo vista nello schema questo però non è uno standard ogni dac ha la sua calibrazione ebbene quindi creare una situazione di loopback con la 2 verificare esattamente le connessioni e la calibrazione di volta in volta ne parleremo poi approfonditamente in un video sull'outboard analogico nel dominio digitale posizioniamo quindi l'uscita del nostro generatore di suono a 21 a meno 21 db e inseriamo appunto il nostro outboard nel caso di studio one utilizziamo la pipeline stereo passiamo ad esempio all'interno del mio maselec e verifichiamo che il segnale in ingresso e in uscita sia esattamente identico quindi facciamo attenzione a che il segnale di ritorno sia uguale in questo caso sta interferendo il mio microfono però diciamo il risultato dovrebbe essere quello di vedere meno 20 qui e meno 20 anche nella parte del return quindi attenzione a questo in caso possiamo compensare con i db in ingresso in uscita ma è meglio farlo appunto a priori compensando appunto magari il livello di ingresso attraverso i controlli della scheda audio la gestione del game staging dovrebbe portarci almeno all'inizio di un mix ad una realizzazione di un mix che viene chiamato statico vediamo insieme come creare un buon mix statico iniziale partendo dalle tracce che vengono importate nella sessione di mix come spesso accade mi vengono inviati gli stems e poi procedo alla realizzazione del mix vero e proprio in questo momento ho già applicato il game stage alle tracce come vediamo ho utilizzato nel caso specifico il mio bracket che vediamo qui in alto la tendina per intenderci che ci serve appunto per alzare o abbassare il gain di una traccia questo avviene ovviamente tutto pre fader affinché ogni traccia del mixer come vediamo possa suonare nel caso specifico ho già inviato anche le tracce direttamente ai bass che userò per il mix e che arrivino sia ai bass sia ovviamente al master out che abbiamo qui al lato in maniera che non ci sia né clip o quantomeno io possa avere un rms come vediamo in questo caso molto vicino almeno 12 e dei picchi che si avvicinino sicuramente a meno 6 e quindi non arrivino comunque a zero questo diciamo è il mio standard di lavoro per quanto riguarda il mix qualora qualche picco vada come vediamo in questo caso ad incidere sul master out anche se l'rms rimane comunque vicino a meno 12 cercherò di prendere gli ingressi nei bass in questo caso seleziono tutti i bass compresi gli effetti e attraverso l'opzione input controls toglierò un db ad ogni bass questo modo la traccia come vediamo non va più in clip ho utilizzato soltanto il controllo di gain all'interno delle tracce e il controllo di gain all'interno quindi ciò che entra poi nei bass come vediamo sono riuscito a mantenere gli unity gain della song a zero adesso avrò tantissimo spazio per poter iniziare il mix potrò inserire i miei plugin lavorare con l'equalizzatore boostare avere spazio per lavorare in maniera molto veloce molto pratica e poi poter abbassare quindi adesso i bass a meno che non debba inserire anche dei plugin all'interno dei bass quindi ricontrollerò il gain in ingresso nel bass come programmare quindi il gain stage nella fase del mix questa è una delle nuove tecniche che spesso vediamo utilizzate nei generi più elettronici possiamo infatti programmare il gain soprattutto quello dei bass in questo caso per andare in maniera più aggressiva nei plugin di clipping o di distorsione in alcuni momenti del brano ad esempio magari appunto sul chorus in alternativa potremo anche utilizzare i vca sulle varie tracce per andare poi direttamente nel bass oppure possiamo programmare il trim gain come abbiamo visto di ogni bass funziona comunque in entrambi i casi l'importante è che sia prefader in conclusione spero di aver risposto a tutte le domande che mi sono state poste in questi anni in maniera più esaustiva l'argomento non è semplice come molti vogliono far sembrare va considerato sempre un valore di headroom sufficiente soprattutto se si utilizza dell'outboard esterno come nel mio caso perché anche se i nostri plugin o la door riescono a supportare la dinamica quindi lavorare a 32 o 64 bit dovremo necessariamente tornare nel mondo analogico in un certo modo e a certe condizioni se vi trovate invece in condizioni di produzione e mix completamente in the box quindi senza l'ausilio dell'outboard esterno e utilizziamo appunto instruments e loop avremo sicuramente più margine di lavoro dinamico ma non qualitativo per cui il mio consiglio è quello di rimanere sempre nello standard di lavoro che vi ho mostrato evitando il clipping sia sulle tracce sia sui bass e ovviamente anche sul master ci sarà sempre modo successivamente di introdurre distorsione e clipping digitale in fase di mix e mastering attraverso appunto appositi plugin che gestiscono questa caratteristica e quindi creati per avere un clipping più gradevole più musicale molto simile spesso a quello dei convertitori più costosi e ovviamente migliore rispetto a quello che potremmo ottenere con la nostra scheda audio spero che questa lezione vi sia stata utile vi aspetto ai miei seminari al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online sul sito www.proaudiolearning.com affronteremo i vostri mix insieme li finalizzeremo nelle fasi di mastering per gli iscritti ai corsi sono disponibili inoltre plugin e librerie gratuite oltre ai nuovi video esclusivi ogni mese continuate a seguirmi su facebook youtube e music off non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale patreon che trovate in descrizione se il video vi è piaciuto cliccate subscribe e attivate la campanella questo mi aiuta a far crescere il canale per il momento è tutto ciao a presto